buongiorno e benvenuti ad albiano per piné redival piné in giallo blu redival in nero prova l'incursione in area di rigore la conclusione carolli salva la sua porta calcio d'angolo dalla sinistra battuto in questo momento il colpo di testa doppia soluzione per la redival vediamo chi andrà va citati col sinistro col mano sicuro avanza la conclusione salva il difensore parte sul filo del fuorigioco a tu per tu con il portiere viene sbilanciato carolli è chiuso quindi deve tornare indietro in via orizzontali per il suo compagno bella triangolazione la conclusione col mano grigolato cerca faccenda che si coordina e in mezza sforbiciata porta in vantaggio il piné al minuto 37 non impeccabile in questa occasione carolli e il piné passa in vantaggio 1 a 0 posizione interessante conclusione però debole facile preda per col mano punizione defilata per la redival battuta in questo momento salta la difesa respinge palla ancora però per la redival conclusione fuori la scodella nel mezzo arriva mattivi e poi la deviazione sfortunata di bontempelli se la butta nella sua porta autogol del difensore della redival e quindi al minuto 22 siamo 3 a 0 per il piné damiano giovanini in campo aperto la conclusione e arriva il 4 a 0 di punta del numero 9 quando siamo arrivati al 37esimo del secondo tempo arriva il poker del piné arriva il triplice fischio di pulcini termina 4 a 1 e il piné aggancia la terza posizione grazie! Grazie a tutti.